Il cedimento muscolare è un male o un bene? Dobbiamo sempre ricorrere al cedimento muscolare oppure non utilizzarlo mai? Questo video nasce per rispondere a queste domande Ciao, sono Nicola Strubini, mi occupo di allenamento e della forza, di power building e di power lifting Se ancora non mi conosci ti invito ad iscriverti al mio canale e guardare tutti gli altri miei video Iniziamo subito Tanti anni fa quando ho iniziato a fare i pesi il cedimento muscolare non era una tecnica da utilizzare in palestra Era l'unica tecnica con la quale ci si allenava O perlomeno questo ero abituato a credere A 18 o 19 anni nelle mie palestre non si sentiva mai parlare di buffer, di RPE, di percentuali, di ripetizioni in riserva Si andava sempre a tutto gas Il ricorrere al cedimento muscolare era quindi il pane quotidiano Che fosse sulla panca piana, la panca inclinata, croce ai cavi, military press, squat al multi power Qualsiasi altro esercizio c'era sempre e comunque il ricorso al cedimento muscolare su ogni serie E devo anche dirti la verità, si cresceva Io crescevo sempre con questo metodo Tant'è che ricordo che a 19-20 anni al massimo arrivai a fare 100 kg di panca piana Che non sono tantissimi, erano probabilmente anche fatti male Probabilmente abbastanza brutti Ma erano pur sempre 100 kg a 19-20 anni Poi piano piano fortunatamente cominci a studiare Cominci ad approfondire queste tematiche Cominci a leggere tutti i libri che puoi Leggere gli studi Sentir parlare gente più preparata di te E capisci che non è propriamente così la questione Poi arrivi addirittura a sentire che il cedimento muscolare è controproducente E tu già stai pensando Ma come? Hai detto anche tu stesso che stavi crescendo Il punto è proprio quello Crescevo Poi a un certo punto ti blocchi E quando ti blocchi cominci a trovare altre modalità di allenamento Cominci a capire che forse allenarsi sempre a tutto gas Con il famoso no pain no gain Ecco forse può essere limitante E quindi scopri altre metodiche Voglio però parlare e distinguere esercizi e modalità Con la quale il cedimento muscolare può essere utile E quelli in cui invece può essere svantaggioso Vediamo innanzitutto quali sono i vantaggi del ricorrere al cedimento muscolare Col cedimento muscolare abbiamo un rapido aumento dello stress metabolico Che sicuramente induce ipertrofia Si sfinisce rapidamente il muscolo e le fibre muscolari che stiamo allenando nel muscolo target Ci permette anche di utilizzare carichi leggeri e renderli comunque allenanti È un tipo di allenamento molto intuitivo Perché quando non riusciamo più a sollevare il peso ci fermiamo E un altro vantaggio esclusivo del cedimento muscolare È che riusciamo ad allenare rapidamente anche muscoli carenti O che magari generalmente tralasciamo Ricorrendo al cedimento muscolare riusciamo ad allenarli velocemente E stressarli quanto basta per farli crescere Vediamo adesso invece quali sono gli svantaggi L'altra faccia della medaglia del cedimento muscolare Accumulo di fatica eccessiva in poche serie Innegabile peggioramento del gesto tecnico sulle ultime ripetizioni Maggiore rischio di infortuni Può far diminuire il lavoro totale Può far diminuire la frequenza dell'allenamento In quanto avremo poi DOMS per diversi giorni Quando ricorriamo al cedimento muscolare su diverse serie Può indurre rapidamente ad un overreaching cronico Fino addirittura al sovralenamento È però necessario fare delle dovute distinzioni Perché il cedimento muscolare in un 4x10 di bicipiti ai cavi Non è come un cedimento muscolare in un 5x5 di back squat pesante In un 5x5 di back squat pesante Tutti gli svantaggi si manifesteranno E quindi è altamente sconsigliato In un 4x10 ai cavi di bicipiti invece Tutti gli svantaggi probabilmente finiscono nel nulla E quindi può essere altamente consigliato E può essere un'ottima tecnica Voglio quindi distinguere tra diversi esercizi e diversi muscoli Ad esempio se alleniamo muscoli piccoli a cedimento Ricorrere al cedimento può essere un'ottima tecnica In quanto facciamo crescere rapidamente Stressiamo rapidamente un muscolo piccolo Che recupererà in fretta E quindi non avrà tutti quanti gli svantaggi del cedimento Ma avrà soltanto i vantaggi da cui trarre beneficio Non necessariamente devi ricorrere al cedimento in ogni singola serie Perché per paura di abbassare il volume totale di lavoro E di stressare troppo il muscolo A magari nell'ultima serie di ogni esercizio per esempio Puoi ricorrere al cedimento Muscoli grandi con esercizi multiarticolari In questo caso dobbiamo distinguere tra esercizi alle macchine Ed esercizi con bilanciere Che non avranno lo stesso stress sistemico Se facciamo muscoli grandi con ad esempio il dorso rematore con bilanciere Ecco che ricorrere al cedimento muscolare può anche essere rischioso Se invece stiamo allenando il dorso con una trazione verticale Ad esempio alla lat machine Lo stress indotto sul corpo sarà decisamente inferiore E quindi ricorrere al cedimento può essere una valida opzione Se alleniamo costantemente muscoli grandi Con esercizi multiarticolari pesanti A cedimento muscolare È probabile che raggiungeremo in fretta uno stallo Il plateau E soprattutto il sovallenamento Dobbiamo quindi essere intelligenti a sufficienza per distinguere tra esercizio ed esercizio Riservare qualche serie a cedimento su alcuni multiarticolari Prevalentemente magari alle macchine o ai cavi Può essere un'ottima idea Parliamo adesso invece dei fondamentali Nello stacco da terra sconsiglio sempre e comunque a priori il ricorso al cedimento muscolare Lasciamoci sempre delle ripetizioni in riserva È presumibilmente uno degli esercizi più pericolosi che possiamo fare in palestra Nello squat sconsiglio cedimento muscolare Salvo un allenamento in piena ottica bodybuilding Nel quale magari stiamo facendo la famosa routine delle 20 ripetizioni In questo caso i carichi saranno talmente bassi Che probabilmente una serie o due a cedimento Possiamo tranne beneficio E può non indurre invece a solo allenamento cronico La panca piana tra le tre alzate Tra i tre big è probabilmente quella che maggiormente può beneficiare dal ricorso al cedimento muscolare Magari è sensato ciclizzare il ricorso a questa tecnica nel corso del tempo E quindi non allenarsi sempre a cedimento in tutte le serie di panca piana Magari riservarlo a un periodo più ipertrofico Nel quale magari il range di ripetizioni è tra le 8, le 12 o le 15 ripetizioni E non sempre Possiamo quindi usarlo con parsimonia sulle medio-alte ripetizioni È piuttosto evidente il motivo per queste distinzioni Lo stacco da terra è quello che sicuramente induce maggior stress In particolar modo sul sistema nervoso centrale Lo squat probabilmente al secondo posto Molto vicino allo stacco da terra La panca piana sicuramente è un esercizio che Per quanto sia multiarticolare Per quanti muscoli allena Non stresserà il nostro corpo La nostra mente Così tanto quanto gli sta Ed in generale è bene ricordare che l'upper body Recupera molto più velocemente rispetto al lower body E al tempo stesso può essere allenato più frequentemente Con maggiore intensità Maggiore volume Vediamo adesso il ricorrere al cedimento muscolare Nell'allenamento della forza È praticamente inutilizzato Sotto le 5 ripetizioni Generalmente il carico L'intensità è così elevata Che ricorrere al cedimento Può essere quasi solo ed esclusivamente Negativo come approccio E può anche essere altamente rischioso Sono esercizi altamente tassanti E fatti a carichi elevati Il rischio di infortunio Se l'esecuzione non è precisa Può essere davvero troppo elevato Il gioco non va alla candela Oltretutto pensaci un attimo Ripensa a tutti i vantaggi del cedimento Che ho descritto in precedenza Ti accorgerai che per quanto concerne L'allenamento della forza Sono tutti pressoché inutili Guardi invece tutti gli svantaggi Relativi al cedimento E ti accorgerai che Si concretizzano realmente Sui fondamentali a basse ripetizioni Cerchiamo quindi Dato la lunghezza del video Di trarre alcune conclusioni precise Sul cedimento muscolare È buona norma ricorrere al cedimento Su muscoli piccoli Non sempre È buona norma non ricorrere al cedimento Sui fondamentali come squat Stacchi da terra e panca piana È buona norma periodizzare L'utilizzo del cedimento muscolare È giusto ricordarsi che Non dobbiamo sempre necessariamente Ricorrere al cedimento muscolare E che i muscoli crescono Anche se abbiamo delle ripetizioni in riserva Nel mondo della forza pura Probabilmente il ricorrere al cedimento muscolare È l'ultima cosa a cui dobbiamo pensare A favore di tante altre Quali specificità Volume di allenamento Intensità Frequenza E tanto altro Nel mondo del bodybuilding natural Invece il cedimento muscolare Può essere una buona tecnica Da utilizzare Da ciclizzare E da utilizzare con parsimonia Nei propri allenamenti Purtroppo in Italia Siamo passati dal Il cedimento muscolare È l'unico modo per allenarsi Al Il cedimento muscolare È il male assoluto E non va mai fatto La verità È diversa Spero che questo video Ve l'abbia fatta comprendere meglio Mi angolo che questo video Ti sia piaciuto Se così è Ti chiedo nuovamente Come in tutti i miei video Di lasciare un like Commentare sotto al video E se ancora non l'hai fatto Iscriviti subito anche al canale Alla prossima E buon allenamento Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima